buongiorno a tutti cari amici benvenuti alla puntata di oggi di 58 seconds review la mia rubrica quotidiana in cui vi racconto i dischi che più mi hanno colpito oggi ho scelto per voi un disco di nico catacchio è stato pubblicato dalla 12 lune e si intitola kinesis l'album è un omaggio a michael breaker però non è un omaggio nel senso che catacchio riprende dei brani di breaker o degli arrangiamenti o che in realtà ha scritto nuove composizioni originali che si ispirano a questo personaggio però esprimendo la poetica e la visione artistica di nico catacchio appunto che è un bravissimo contrabassista ed è accompagnato da michele carraba al tenore fabrizio sabino alla chitarra eugenio macchia pieno forte e mimmo campanale alla batteria un album che mi ha particolarmente colpito per il sound contemporary particolarmente ben uscito ciao grazie e a domani